La città di Modena ha un nuovo cuore tecnologico, innovativo e all'avanguardia. Il Data Center Innovation Hub, realizzato dal Comune nell'ambito del progetto Periferie e sviluppato con il sostegno anche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, rappresenta infatti il cuore della Smart City del presente e del futuro. La struttura, gestita da Lepida, verrà utilizzata dalla pubblica amministrazione, enti locali, università, per consolidare e rendere più efficiente l'ICT a livello locale, andando a sostituire progressivamente i CED degli enti pubblici e anche di soggetti privati, migliorandone qualità e sicurezza. Solo dal Comune migreranno nel Data Center oltre 150 TB di dati, una cifra dove servono 12-0 per descriverne la grandezza. È il quarto Data Center della Regione Emilia-Romagna e rappresenta un punto di riferimento nazionale sia per la ricerca nel campo della sicurezza informatica, con la sede della Cyber Security Academy, sia per quanto riguarda l'Automotive, con il programma Modena Automotive Smart Area, che sta sperimentando soluzioni per la guida autonoma e connessa, nella prospettiva di una mobilità sostenibile che caratterizza uno dei principali settori produttivi dell'economia del territorio, sede di alcuni dei marchi automobilistici più conosciuti al mondo. L'edificio, ad alta sostenibilità ed efficienza energetica, è costruito con tecnologia all'avanguardia per la potenza di carico elettrico e computazionale, le infrastrutture in fibra ottica e i controlli di sicurezza, e deve garantire anche funzioni di disaster recovery per i CED che costudisce. La struttura si sviluppa su due piani per circa 1600 metri quadri. A piano terra trovano posto le attività di ricerca e formazione, con sala conferenze, blocco servizi e una grande sala open space, caratterizzata da un soffitto a cassettoni in cemento armato, studiato per reggere fino a 1300 kg per metro quadrato. Al piano superiore, infatti, sono collocate le sale server, opportunamente raffrescate, e la control room. Si tratta di zone riservate agli operatori con accesso controllato anche da sistemi di sicurezza elettronici. Il data center rappresenta oggi l'elemento simbolo della rigenerazione di un'area della città che si trova a poche centinaia di metri dal centro storico, stretta tra la ferrovia e la tangenziale. Qui, a partire dalla fine dell'Ottocento, si sono sviluppati insediamenti industriali che progressivamente dismessi hanno liberato grandi spazi permettendo nuove opportunità di funzioni integrate alla città, oggi ridisegnate nel piano di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area nord, il cosiddetto progetto periferie. Una casa della salute già in funzione, a poche centinaia di metri il cantiere della nuova sede di medicina dello sport, e poi scuole, strutture commerciali, edilizia sociale, con anche un centro di urno per persone con disabilità. È un progetto che cambierà profondamente il volto di questa parte di città, unendo interventi pubblici e privati, individuando servizi e poli attrattivi dell'area, riconfigurando l'intero sistema di infrastrutture, verde e mobilità sostenibile, con nuove rotatorie e piste ciclabili, anche per ricongiungere il quartiere con il centro della città, attraverso la riqualificazione di via Canaletto e il sottopasso ferroviario. Gli investimenti complessivi superano i 50 milioni di euro, e solo il Comune, con la società di trasformazione urbana Cambiamo, specializzata nella riqualificazione del territorio, sta realizzando interventi pubblici per circa 23 milioni. Un vero e proprio piano di rigenerazione, che guarda al futuro tecnologico, innovativo e sostenibile della città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.